In archivio la venticinquesima edizione del torneo Madonna del Carmine di Riccia con la finalissima della Super Cup tra Pizzeria Darino e Ideal Mobile. La spunta Pizzeria Darino con il risultato di 6 a 2 per la squadra di Marco Porcaro e il BIS con la passata edizione ma anche un altro successo, un altro titolo dopo la vittoria nel torneo comune di Ripalimosani. Andiamo con la cronaca per i gol, al quinto Fazio trova il corridoio per Carmine Guglielmi, tutto solo il centroavanti del campo di Pietra, fa 1 a 0. Diciassettesima, prima azione di Ideal Mobile, Doliva scappa in contropiede, conclusione Mancina attraversa alta. Ventottesimo, palla perse in uscita da Pizzeria Darino, ne approfitta Nice, assist per Sané, finta, tocco sotto ed è 1 a 1. Trentesimo, il tempo di organizzare la manovra, i bianchi tornano in vantaggio, discesa di Cappelletti sulla destra, cross al bacio per Diallo che di testa fa 2 a 1, è impeto di Pizzeria Darino, al 32esimo arriva il Tris, Guglielmi di spalle lavora la sfera, attacco per Diallo, serie di finte e tocco sotto porta per il 3 a 1. Trentacinquesimo, nel finale di tempo Fazio chiede l'1-2 a Guglielmi, dribbling, tocco sotto morbido ed è poker, bellissima esecuzione del nuovo centrocampista del Vasto Girardi. Nella ripresa al 14esimo, tracciante di Fazio per Moussa Mané che supera Pilenza con un tocco morbido per il 5 a 1. Diciottesimo, contropiede De Almobil, Nice, ripartenza, piazzato il destro, Landi risponde presente. Diciannovesimo ancora Fazio, tutto solo assist per Zurlo che fa 6 a 1 solo per i numeri. Nel finale al 26esimo accorce De Almobil l'azione di Bangura, rimpallo per Carpinelli che realizza da due passi dunque per il finale di 6 a 2. Pizzeria Darino vince la Super Cup del torneo Madonna del Camere di Riccia che come detto va in archivio e festeggia il quarto di secolo.